Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vi mostro la prima maglia del Milan in edizione player, veramente fantastica. Sous-titrage Société Radio-Canada Come ho avuto modo di dire la maglia è veramente fatta molto bene di un bellissimo tessuto. Qui in alto vedete il costo, più bello di questo non c'è niente. Vi ricordo che per ordinare la maglia trovate tutti i riferimenti qui sotto, in descrizione. Andate a vedere sul sito questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Prima di lasciarvi alla parte finale mi raccomando iscrivetevi al canale, spingete quel pulsante. A voi non costa nulla, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.